Pellecchia, il migliore in campo di questo match, l'impresa si è realizzata, partendo per due, le San Fan 1, anche con l'uomo in meno, alla fine nel finale la scampate, segna ancora Toppola, ma tu hai fatto la miglior prestazione che abbiamo visto fare ad un portiere su questi campi, complimenti davvero. Una grande partita di tutti, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, una partita intensissima, con il fiato già per questa dura prova dopo dieci minuti, con tutti quanti, una grande partita meritata secondo me, complimenti agli avversari. Questi partenomi con questa vittoria contro la prima in classifica si lancia ancora, quest'anno avete una partita incredibile, qual è il vostro obiettivo? Arriviamo, arriviamo il più in alto possibile, vediamo dove ci porta il campionato. In bocca al lupo alla partita, ciao!